A Giuliano i vertici del partito nazionale 9 dicembre, forcuni per la sovranità all'incontro che si è tenuto lo scorso fine settimana allo chalet di Piazza Gramsci, erano presenti tra gli altri il presidente nazionale Puttilli e la coordinatrice Donna Rumma, già protagonisti dell'episodio con l'ex deputato di Forza Italia Osvaldo Napoli. Al tavolo giuglianese si è discussa delle prossime iniziative sul territorio da parte dei Forcone e della partecipazione alle prossime elezioni politiche. Le nostre aziende, le nostre attività con queste importazioni, arriva la Spagna, arriva il Morocco, arriva la Cina e che cosa succede? A me me ne vengono pagate 50 centesimi, io non posso essere competitiva se il prodotto mio dopo aver portato talmente tante spese non riesco a venderlo al prezzo che dovrebbe stare, non sono più competitiva e allora che cosa succede? Che noi chiudiamo, abbiamo finito, l'agricoltura è finita, se voi girate per le campagne, le serre sono completamente abbandonate, ma dove vogliamo andare noi? Che in Cina un operaio gli danno un euro due al giorno? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Il governo ci ha venduto, ci ha detto francamente, aziende Italia voi dovete chiudere. Non saranno candidature che arrivano dall'alto, saranno candidature a livello territoriale di gente che in questi 3-4 anni si è adoperata. Al primo posto il ripristino di tutte le sovranità a partire da quella monetaria e il ripristino e il rispetto, cari politici, cari Presidenti della Repubblica, cari Presidenti delle Camere, il rispetto e il ripristino della Costituzione e dei diritti costituzionali. Tra i candidati per un posto in Parlamento ci sarebbe dunque anche il giulianese Nunzio Raimondo, insegnante ed in passato già consigliere comunale. Sì, così ha detto il nostro Presidente nazionale Francesco Buttilli. Io mi metto a disposizione dei forconi, metto a disposizione la mia persona, il mio impegno profuso già nel tempo, perché non è da oggi che io mi interesso di politica, questo bisogna dirlo sinceramente. E quindi ringrazio il Presidente nazionale della sua presenza qui stasera e dico fermamente che noi saremo presenti sul territorio e vogliamo portare all'attenzione del Parlamento italiano le problematiche di un territorio che non a caso viene definito terra dei fuochi. La mia carica nei forconi di coordinatore regionale della pubblica istruzione, a questo proposito il nostro impegno sarà quello di rimettere in discussione una legge, la cosiddetta 107 della buona scuola che noi riteniamo sia stata la pessima nella storia della Repubblica italiana, perché costringe docenti del Sud ad emigrare al Nord e quindi a lasciare le proprie famiglie e si è creata quindi una situazione insostenibile.